E' stato approvato ieri sera dal Consiglio Provinciale di Caltanissette il bilancio di previsione 2012, a favore hanno votato 12 consiglieri, mentre uno si è astenuto, il tutto scandito anche da uno scambio polemico e un allo a proposito del parere espresso sul documento contabile da tre revisori dei conti. Il Presidente del Collegio Crimi aveva infatti dato parere negativo, ritenendo l'atto non veritiero, mentre positivo era quello degli altri due componenti, Messina e Marchese. Sul parere discordante di Crimi gli uffici avevano anche interpellato l'Associazione dei ragionieri degli enti locali, che lo aveva in pratica ritenuto privo di fondamento, mentre non ha espresso alcun parere alla competente commissione consigliare. Il bilancio di previsione 2012, fortemente condizionato dalla ridotta risorse finanziarie, nonché dai limiti del patto di stabilità, rispetto al 2010 registra una riduzione dei trasferimenti statali pari a 7 milioni di euro, mentre dei trasferimenti regionali la quota da potersi destinare alle spese correnti è stata ridotta di oltre 2 milioni e 400 mila euro. L'importo complessivo del documento finanziario è di 45 milioni di euro, di cui 29 milioni per il finanziamento di spese correnti, con una contrazione rispetto al 2011 di circa 3 milioni e mezzo di euro. Tra le voci più rilevanti vi sono le spese per il personale, la prestazione di servizi, la riduzione dei trasferimenti erariali, è stata in parte attenuata mediante l'estinzione anticipata al 31-12 del 2011 di una quota parte dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Sul fronte degli investimenti sono state programmate risorse finanziarie complessive per quasi 5 milioni di euro.